Stiamo trasmettendo su www.letteralmente.info, letteralmente Radio Studio 3, Cristina da Firenze. Poesia e racconto del cuore. Guerra. Il globo infuocato si coprì di vergogna, quando una mano, forte e potente, spense le menti. Le riempì d'odio e diede voce a urla selvaggia. Pianse il bambino che aveva perso la madre, pianse il marito che aveva perso la moglie, pianse il fratello che aveva perso la sorella. Quell'uomo offuscò il mondo con un velo d'orrore. Grigio, nebuloso e triste, fece a retroso il cammino una storia che si era coperta di pagine di gloria. Il coraggio di pochi, la debolezza di molti, la sete di potere, ideali e rassismi si miscolarono per reagire e vendicarsi contro chi, inerme, aspettava solitario senza porsi domande.